Antonio Segreti è il nuovo Presidente del Consiglio Comunale di San Sepolcro. Con quale spirito? Lo spirito è quello senza dubbio di un grande senso di responsabilità e anche di una certa emozione per affrontare questo incarico. Io vengo da 5 anni di consigliere di Moranza, quindi mi sono fatto questa esperienza, ma certamente questo nuovo ruolo è un ruolo importante e delicato che dovrà essere gestito nella correttezza, nel senso di tutelare sia la maggioranza sia l'opposizione, perché questo è il ruolo del Presidente del Consiglio, e garantire che tutti i consiglieri partecipano attivamente alla vita politica del Consiglio Comunale. Quindi un ruolo di istituzione importante che deve garantire tutti. Detto questo, la maggioranza ha il diritto del dovere di governare e la minoranza ha quello di controllare l'operato. In breve, ci sarà un taglio a tutti gli ordini del giorno che sono emersi nella Presidente e la legislatura? Adesso vediamo come si pone il problema. Certamente il lavoro che dovremmo fare sarà molto importante, perché come tutti sanno c'è anche una riduzione del numero dei consiglieri e anche degli assessori. Quindi i consiglieri e gli assessori avranno un lavoro molto superiore rispetto al passato, perché bisogna fare più cose con meno risorse. E questo penso che sia un problema che riguarda noi, ma tutti riguarda. Quindi penso che dovremmo lavorare di più per arrivare a questo tipo di conclusione. Grazie. 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 Grazie.